dai adesso incominciate con tutti i commenti e sei tutta rifatta vi faccio una domanda ma se la vostra casa cade a pezzi la ristrutturate o no è la stessa cosa il corpo vuole andare degli anni cede tutto cede tutto e quindi bisognava farsi dei piccoli ritocchini questa è la verità è inutile che continuate a dire c'è rifatta si è meno male che ci sono i chirurghi mamma mia io li amo se non ci fosse ma invece passiamo i ritocchini di paolo masella secondo voi chi gli sta facendo ma letizia petris solo che il nostro paolo non è molto convinto mentre la mamma di greta rossetti è convinta paolo proprio no passiamo da un'altra parte allora questi sono falsone e anita che vanno dove a napoli guardate che bella che è soleggiata io auro loro un ottimo weekend e vi tengo aggiornati come sempre un bacione grande ciao